Il Consorzio di Proloco d'Alsilia al Piave, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, presenta il progetto 700 anni sotto il cielo di Dante, un viaggio ideale attraverso luoghi simbolici del nostro territorio, valorizzati a partire da alcune terzine significative del sommo poeta. Ci troviamo davanti al comune di Musile di Piave, uno dei luoghi simbolo per la sua gente e punto di riferimento più prossimo per i bisogni della sua comunità, istituzione che nel tempo si è presa sempre più cura del bene comune. Dante ha saputo esprimere con straordinaria genialità l'attesa di bene che è custodita nel cuore di ognuno di noi. Ciascun confusamente un bene apprende nel quale si plache l'animo e tisira. Perché di giugner lui ciascun contende. Ciascuno concepisce in modo confuso un bene nel quale l'anima si appaghi e lo desidera. Per questo ciascuno si sforza di raggiungerlo. Le difficoltà che ci troviamo ad affrontare, da quelle personali come la precarietà, la perdita del lavoro, le malattie, le fragilità umane, il male fatto o subito, fino a quelle collettive come la crisi economica, i disagi sociali, la confusione politica, l'incertezza internazionale, sono così imponenti che potrebbero indurci a ritenere inutile ogni attesa e ogni speranza. Eppure mai, come in queste circostanze, risulta evidente quanto siano vere e familiari le parole di Dante, che tornano a ridirci, oggi come settecento anni fa, che tutti, confusamente o segretamente, attendiamo un bene per noi e per i nostri cari. Ma occorre una grande lealtà da parte di ciascuno di noi per riconoscere questa attesa e questo desiderio di bene. E occorre un grande senso di responsabilità per capire che tutti siamo chiamati, secondo le nostre possibilità e i nostri talenti, a dare un contributo al bene comune, come singoli e come comunità. Grazie a tutti.